I giornalisti Francesco Bei e Luca Fraioli hanno ricevuto il premio speciale La Repubblica dei Cavalli a Fiera Cavalli 2021 per aver creato uno spazio dedicato al mondo equestre all'interno della testata Repubblica.it Per noi è stata veramente una grande emozione, un grande onore scendere in campo e ricevere questo premio e ci dà l'orgoglio di aver fatto una cosa che evidentemente mancava nel panorama editoriale italiano che è pieno di riviste di settore molto ben fatte ma mancava un'iniziativa che si rivolgesse a un pubblico più largo, più generalista. Proviamo a colmare questo vuoto con la nostra passione che è la passione di persone di cavalli prima che di giornalisti quindi essere qui per la prima volta in campo tra i grandi campioni è stata davvero un'esperienza unica. La passione per il mondo del cavallo e tutto quello che c'è attorno che vediamo anche a Fiera Cavalli quindi il turismo, lo sport, anche le iniziative in termini di abbigliamento, di solidarietà e di educazione secondo me è un'iniziativa straordinaria, siamo felicissimi che Repubblica l'abbia messa nel suo palissesto e che quindi anche noi ne gioveremo in futuro.